È una firma pesante anche per l'economia italiana, quella che Donald Trump ha posto ieri sui dazi contro l'importazione negli Stati Uniti di acciaio e alluminio. Potrebbe costarci infatti più di 650 milioni di euro. Nello scorso anno, secondo i dati forniti da Federacciai, le nostre aziende siderurgiche hanno esportato negli Stati Uniti 505.000 tonnellate di prodotti e semi lavorati siderurgici, pari al 10% circa del totale dell'export europeo del settore, per un valore stimato appunto in 653 milioni di euro. È una voce molto significativa quella di acciaio e alluminio per l'intera metallurgia italiana, che nel 2017 ha esportato verso gli Stati Uniti prodotti per oltre un miliardo di euro, con un aumento rispetto all'anno precedente di quasi il 20%. Ora l'imposizione dei dazi da parte di Donald Trump mette a rischio i risultati raggiunti nel settore, ma soprattutto potrebbe innescare l'effetto valanga tanto temuto dai nostri produttori, perché trascinerebbe nel gorgo dei dazi i tanti prodotti italiani d'eccellenza, che trovano spazio nel mercato statunitense. Con conseguenze negative per i lavoratori di quelle aziende che esportano verso gli Stati Uniti. È una pessima notizia perché l'Italia esporta verso gli Stati Uniti più di quanto importa, quindi evidentemente se i prodotti italiani dovessero diventare più cari, ci sarebbe una diminuzione di vendite verso gli Stati Uniti.